Ringraziamo la regista Donatella Baglivo che ci ha offerto alcuni di questi filmati su Anna Magnani. Io sono nata a Roma e so anche dove, a Porta Piasi, perché mia madre ha vissuto un po' in Egitto e si è sposata in Egitto e io l'ho raggiunta per un anno in Egitto e da questa è nata la faccenda della nascita in Egitto. No, francamente, io voglio essere nata a Roma perché sono nata a Roma. Studia recitazione all'Accademia Eleonora Duse, poi recita nell'Avanspettacolo con Totò. Viene lanciata nel cinema col film Campo dei Fiori, sceneggiato da Federico Fellini e con il già famoso Aldo Fabrizi. Solo in compagnia. Anche in compagnia, no? Com'è il giovanotto? No? Ci va bene? Sì? A me li portarci noi, ce l'ho da fare. Rossellini, con Roma città aperta, le darà una fama mondiale. Avrà una vita sentimentale tumultuosa. Ha sposato il regista Alessandrini, poi da Massimo Serato ha avuto un figlio, Luca. Ma non riuscirà a strappare Roberto Rossellini a Ingrid Bergman. Prometti che almeno questo, amore, che non andrete nello stesso albergo dove andavamo noi due. Oh, grazie, amore. Grazie, vuole.